Ho ribadito al Vice Primo Ministro Caterino la nostra forte preoccupazione per questa deriva militare. Non riteniamo che questa possa essere la soluzione. Auspichiamo e stiamo lavorando con la massima determinazione per evitare che continuino le ostilità militari. Vogliamo un cessato il fuoco immediato e auspichiamo un ritiro delle forze dell'esercito di liberazione nazionale, dell'LNA. Riteniamo che il dialogo politico, la soluzione politica alla quale sin qui abbiamo lavorato da quando ci siamo insediati come governo, rimanga l'unica soluzione plausibile, possibile e sostenibile sul terreno. Riteniamo inoltre che la coesione internazionale sia la strada per giungere a questa soluzione. Ormai è ben chiaro, non è sufficiente soltanto che a questa soluzione e in questa soluzione siano coinvolti gli attori libici, devono essere coinvolti in questa prospettiva di risoluzione politica anche gli esponenti della comunità internazionale. Anche gli Stati Uniti ribadiscono che la soluzione non può che essere politica e non può che passare da un cessate delle ostilità militari.